Utah Jazz contro Los Angeles Clippers Psicologia inversa La mia sensazione personalissima è che dopo la notizia di ieri cioè dell'uscita di scena di Hawaii Leonard fuori a tempo indeterminato gli Utah Jazz abbiano pensato di averla bella e vinta questa serie così come per esempio però al contrario nel momento in cui Donovan Mitchell si era fatto male nel corso di gara 3 avevano pensato di averla belle persa la serie queste montagne russe però in realtà sono abbastanza normali per una squadra che fa i playoff una squadra che fa i playoff vive all'interno del microcosmo che sono i playoff stessi quello che i Knicks vivono normalmente in pianta stabile durante anche la stagione cioè una vittoria in più e sei già una contender sei già alle finals c'è Belle e Jason di Beverly Hills è pronta a fare il disegnino dell'anello una sconfitta in più e sei già da tanking proprio di quello eccessivo e spudorato questo è il motivo per cui secondo me nonostante il fatto che siano 3 a 2 sotto nella serie e abbiano perso il fattore campo questa serie continua a essere favorita in un certo senso per gli Utah Jets anche se 1. Hanno perso nella serata in cui Bojan Bogdanovic vedeva il canestro più grosso delle boiate che spara Stephen A. quando parla dei Jets 2. Continua a mancarti Mike Conley che sulla carta dovrebbe essere quello più esperto della squadra quanto meno per quel che riguarda i playoff e 3. Sei finito nella foto dell'anno una roba che hai confronto Olivero Toscani ti guarda e ti dice allora Kawaii che ti devo dire sei meglio te e io mi arrendo sei meglio te Paul George bersagliato memato massacrato da un paio d'anni buoni a questa parte nel momento in cui è uscito di scena Kawaii Leonard ha tirato fuori il meglio di sé ma in che senso? in che senso? questo è Paul George in gara 3 vinta dai Clippers con Trentello di George che però era arrivato in gran parte frutto di conclusioni da 3 che come ben sappiamo per George sono soluzioni estemporanee ultimamente la percentuale è molto variabile di partita in partita questo invece è Paul George di Sanotte gara 5 vinta ancora dai Clippers ma con un George che attacca il ferro e cerca il fallo e guadagna tiri liberi è aggressivo nei confronti del canestro questo tipo di atteggiamento di Paul George udito magari all'aiuto anche di terzi che siano Mann che siano Morris che siano Reggie Jackson può essere determinante per provare nei Clippers a vice in almeno una delle prossime due il problema fondamentale è che il telefono è che se anche ci dovessero riuscire il cammino e playoff si fa abbastanza complicato senza Kawhi Leonard questi playoff sono maledetti il Kawhi di gara 4 era la cosa più simile a un MVP che ci sia stata in questi playoff dopo Heidi con una varietà di soluzioni offensive e difensive che davvero ce lo faceva sembrare impossibile da affermare impossibile per chiunque per qualsiasi cosa tranne che per la sfiga la sfiga e Zazza Zazza se si figlia per buona anche la WWE ovviamente Milwaukee Bucks contro Brooklyn Nets for the ages ce ne sono state tante di prestazioni dominanti in questi playoff però secondo me mia personalissima opinione nessuna di queste era stata una prestazione di quelle che tra 10 20 anni noi ci si ritroverà a pensare ma ti ricordi Hoso ai playoff di 2021 nessuna di quelle prestazioni lo era stata Damian Lillard la notte dei 55 quella sì poteva essere un po' una prestazione for the ages però aveva perso e KD invece ha vinto questa è la differenza le cifre fanno impressione 49 17 10 in una gara 5 col 70% dal campo non dovrebbe essere cosa consentita all'essere umano ma oltre alle cifre c'è la sensazione netta che questa partita l'abbia giocata l'attuale numero 1 al mondo al mondo con tanto di canestro della vittoria perché non ci si fa mancare nulla per ritrovare un'altra prestazione individuale personale del genere in cui un giocatore si è caricato proprio sulle spalle tutto il peso della squadra bisogna tornare indietro a Lebron di qualche stagione fa Lebron che tra l'altro non ha perso l'occasione di farla notare come cosa ovviamente però in questa e nelle eventuali prossime serie molto dipenderà anche da quell'altri due quando Harry Irving è andato giù in gara 4 e quando la squadra ne ha accusato così tanto il colpo da non riuscire di fatto a rigiocarla più quella gara 4 la situazione si è fatta abbastanza complessa il barba è tornato nel frattempo però diciamo che la forma non è sembrata delle migliori eh per Kyrie Irving sono stati esclusi problemi molto più gravi però diciamo la sensazione è quella che comunque non si riesca a rivederlo quantomeno in questa serie a che cosa siamo aggrappati ecco non so se è peggio il ritardo con cui anche io ho fatto questa battuta trita e ritrita oppure il ritardo con il quale nel prossimo video parlerò di PJ Tucker e Jeff Green perché in questo video è uno trovato in modo il tempo le robe di inserirlo in movimento Yannis servito in movimento è un giocatore Yannis servito da fermo è tutto un altro giocatore di tutta un'altra categoria questa cosa la si sapeva già da tempo il fatto è che nel momento in cui Yannis ha innalzato nelle ultime stagioni il proprio rendimento a livello di MVP questa cosa viene ulteriormente esasperata dalle difese che uno collassano maggiormente su di lui e due lo studiano lo conoscano sempre di più queste sono solo alcune delle ricezioni di Yannis in movimento situazioni in cui per gli avversari è praticamente impossibile andarsela a prendere il discorso cambia invece e anche parecchio nel momento in cui lo si prova a servire da fermo ricezione statica questa è l'ultima azione di gara 5 nonostante le prodezze di KD la partita è ancora in bilico mancano 22 secondi alla fine Miluoghi è sotto di 2 e ha la palla in mano per pareggiare o andare all'overtime si va chiaramente da Middleton perché ha più opzioni offensive dal palleggio di tutti gli altri c'è proprio KD su di lui che fa anche una discreta difesa però il crossover di Middleton lo sbilancia e provoca l'aiuto di Jeff Green che quindi si stacca da Yannis la lettura di Middleton è perfetta nell'andare a cercare proprio Yannis che però da fermo da fermo ha una ricezione difettosa perde palla e KD congela la partita questo è solo un esempio per dire che i Bucks potenzialmente hanno la bomba atomica tra le mani cioè hanno un'arma che a livello offensivo ma anche difensivo se mai gli balenasse quell'anticamera di cervello di provarcelo su KD eh pute nozzer hanno un'arma dicevo in miluoghi Bucks che non ha uguali potenzialmente all'interno della Lega è una bomba atomica devono soltanto imparare a attivarla devono imparare a usare la valigetta coi bottoni quella di presidente coi missili nucleari se non lo impari pute nozze c'hai da farne un'altra di valigetta la tua e ci metti dentro le due o tre cose e ti levi da tre passi Philadelphia 76ers contro Atlanta Hawks psicodramma collettivo avanti di 26 punti 26 punti 26 i Philadelphia 76ers sono riusciti a perdere succede qualche cosa all'interno della testa di questa squadra nella partita precedente Embiid aveva tirato 0 su 12 dal campo ogni secondo tempo peggior prestazione al tiro di singolo giocatore degli ultimi 25 anni di playoff hanno provato a mettere in pausa ma la visuale e ogni si cambiava sicché hanno capito che non erano ogni gioco stanotte nel secondo tempo dal campo hanno segnato solo Curry e Embiid cioè di tutta la squadra due giocatori e basta in un tempo intero io davvero non lo so cioè non so che cosa si può dire di una non c'è neanche troppe cose a livello tecnico e tattico da poter analizzare è proprio una questione mentale qui più che un allenatore ci vorrebbe uno psicologo io gli voglio bene a Doc Rivers ma questi andrebbero proprio studiati per capire cosa gli succede nel cervello quando proprio vanno giù di testa a livello di squadra proprio collettivo tutti insieme simultaneamente no non so senza parole io non so come facciano questi a guardarsi dopo la partita di stanotte dopo la sconfitta di stanotte allo specchio e non solo Howard anche quelli con capelli normali di una persona normale cioè io boh Danilo Gallinari finalmente Danilo Gallinari la miglior prestazione dell'anno non me ne importa niente dei numeri non ne voglio sentire parlare c'era quando Atlanta sembrava giocare a un altro sport ha fomentato la rimonta e ha segnato anche il canestro che poi sarebbe risultato essere quello decisivo quando contava di più sul finale della partita e di nuovo la completezza di questa squadra che a gara 5 del secondo turno di playoff continua a tirare fuori delle risorse nuove altre che mai aveva utilizzato fino a questo momento ci metti le letture di Trae Young i rimbalzi di Capelà l'atletismo di Hollins Bogdanovic hanno superato i Knicks al primo turno tirano fuori dei rimonte che manco la Reier Venezia comunque vada hanno costretto la testa di serie numero 1 a est almeno a gara 7 almeno a gara 7 questi Atlanta Hawks sono uno dei motivi per cui la pallacanestro è diversa da qualsiasi altro sport uno dei motivi uno dei tanti ovviamente Denver Nuggets contro Phoenix Suns nervosismo Nikola Jokic come sapete è fresco di premio di MVP tant'è vero che prima di gara 3 ha ricevuto il trofeo celebrato dai compagni i suoi Nuggets giocano questi playoff praticamente con zero pressione perché già in una situazione in un contesto normale non sarebbero stati i favoriti in assoluto per la vittoria finale figuriamoci ora senza Jamal Murray eppure queste sono le proteste per il mancato fischio con tecnico di Jokic in gara 3 poi la situazione peggiore degenera in gara 4 fallaccio di frustrazione accenno di rissa successiva espulsione il tutto nell'ultima partita dell'anno con tanto di tentativo di insurrezione popolare promossa da una pericolosa cellula estremista controllata dai fratelli di Jokic che praticamente so la risposta serba a emigratis di Pio e Amedeo gli manca la pellice e basta io li adoro follemente ma al di là di questo la domanda che tutti ci poniamo che io mi pongo e credo anche la maggior parte dei tifosi dei Nuggets si pongono è perché cioè io capisco la frustrazione ma perché in un momento come questo sei fresco di MVP la tua è stata la prima grande stagione finalmente riconosciuta all'interno della carriera sei nel bel mezzo di un progetto di crescita importante che ti vedrà coi Nuggets protagonista per forza nel futuro per lottare per un anello per una vittoria importante perché Nicola Jokic perché ci sei vero in mezzo del progetto importante cioè non è che viene fuori tutta sta storia perché si viene a scoprire che magari c'è un malcontento di fondo c'hai una mezza idea che ti no fallo per quest'uomo qui a in meno vada bellino ti ha comprato anche la magliettina con tutte le scritte dedicate o aspettala Jamal Murray o dove c'ha da andare l'occasione di una vita abbiamo parlato di Haydice detto che probabilmente è il giocatore più forte in questo momento in tutti i playoff però c'è un altro giocatore che magari è meno forte ora come ora però c'è qualche cosa in più come nelle migliori favole è spinto da una motivazione extra che gli deriva dal di dentro è un uomo in missione i 37 di Chris Paul di gara 4 entrano di diritto nella storia come una delle partite più dominate dal punto di vista psicologico e del controllo delle situazioni in assoluto di tutta la stagione tecnica leadership sicurezza esperienza maturità c'è tutto condito con sapiente uso del tiro dalla media che ha il confronto il panda quanto a possibilità di estinzione pare l'ora di punta per il corso di Shanghai c'è avrà ogni corso a Shanghai c'è da per tutto in tutte le città la via proprio quella principale dove c'è la gente tutti i fitti fitti attaccati che camminano in mezzo di c'è ci sarà il corso di Shanghai e sinceramente il fatto che questo giocatore qui dopo una carriera sciagurata ai playoff per tanti motivi indipendenti molto spesso dalla sua stessa volontà si ritrovi proprio nel momento in cui poteva avere la possibilità di rivalsa anni dopo che noi tutti noi tutti inutile nascondisi me compreso se era già dato belle che è finito anni proprio fa si ritrovi proprio in questo momento all'interno del protocollo anti-covid e rischi di saltare la finale della Western Conference è qualcosa che manda completamente in cortocircuito tutto il sistema c'è proprio un te l'aspetti è come se per fare il tormentone dell'estate tu pigliassi boh non so orietta Berti ecco appunto e questo è quanto oggi video se non vado errato leggermente più breve rispetto al solito ma perché siamo in un punto nevralgico delle varie serie nel prossimo video dei miei due centesimi e sarà esattamente tra sei giorni quindi oggi è che giorno sarà oggi è giovedì giovedì quindi mercoledì prossimo lì avremo già il quadro più chiaro della situazione perché probabilmente tutte queste serie saranno finite e saremo già in finale di conference quindi le potremo analizzare bene queste già finite nel dettaglio di tutte le cose che ci sono rimaste indietro nel video di oggi una delle tante cose che ci può essere rimaste indietro è il commento di Lebron che riguarda il fatto che lui l'aveva detto che bisognava prendersi un po' più di tempo di spazio rispetto all'ultima stagione rispetto alla bolla perché se no era rischioso ricominciare proprio per la salute dei giocatori non ne ho parlato ve lo cito soltanto qui in fondo brevemente perché sinceramente io non ho le competenze mediche per poter stabilire se ha ragione Lebron James o meno se è stata magari soltanto una coincidenza negativa ci sono state anche altri playoff storicamente negli anni scorsi in cui tante stelle si sono fatte male così a logica mi verrebbe da dire che c'ha ragione lui però non ho le competenze mediche per potervi portare argomentazioni al riguardo noi ci si rivede se detto sabato per la live NBA su Twitch i miei due centesimi tra sei giorni e questo rumore che sentite e avete sentito tutto il tempo in sottofondo di video è il ventilatore perché è arrivato il cardo e quindi io comincio a reputarmi non responsabile di quello che dico in questi video perché dormire è un dormo perché c'è le partite e con il cardo stianto qui nello studio che sto sempre sudato fradicio tutti i giorni dimmi te come si vuole andare avanti in questo modo qui è un po' Grazie a tutti.